Le forze dell'ordine stanno cercando una 15enne marocchina che da venerdì sera è scomparsa da casa, con sé ha portato vestiti a un computer portatile a fare la scoperta alla madre, ad MTG lancia un accorato appello a quanti l'avessero vista. Il GIP ha convalidato l'arresto del 37enne Spicese che ha travolto con la sua auto una delle due 27enne all'uscita di un pub sulla Pozzallo Marina Marza, l'uomo avrebbe detto di non essersi accorto di avere travolto le due ragazze, confermati i domiciliari. Quattro arresti e una denuncia in bilancio di una rissa avvenuta a Scicli, due coppie perfutili motivi si sono presi a calce e pugni fuori dalle loro abitazioni, coinvolto anche un minorenne sul posto dei carabinieri che ieri pomeriggio hanno arrestato i quattro. E' polemica sui problemi economici del Consorzio Universitario di Ragusa, oggi l'ex provincia regionale risponde a quanto dichiarato dal Presidente Borrometi, l'ente di Viale Delfante, dice il commissario ha trasferito 178 mila euro al Consorzio. Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione sul video mediterraneo, dunque lo avete sentito dai titoli, questa volta parliamo di una scomparsa che riguarda una 15enne marocchina dalla sua abitazione di Modica. Lo scorso venerdì è stato il fratellino a notare la sua assenza in piena notte, i genitori disperati la stanno cercando e hanno allertato polizie e carabinieri, probabile che abbia preso un autobus a Ragusa e diretta poi a Catania. Madre e figlia avevano avuto una discussione la settimana prima per il cellulare, chiunque avesse notizie o l'avesse vista è pregato di rivolgersi al più vicino posto di polizia o carabinieri e segnalare l'avvistamento. Sediamo dunque l'appello della madre nel servizio di Giuseppe Ragona. Sceima Meshti compirà 15 anni il prossimo 14 luglio, vive a Modica con la famiglia, mamma, papà, il fratellino Zaccaria e un altro che arriverà proprio nel mese di luglio. La famiglia Meshti è arrivata a Modica dal Marocco otto anni fa, quando Sceima era ancora piccolissima. Frequenta la scuola elementare e poi la media presso l'istituto Santa Marta di Modica Bassa. Dopo gli esami decide di chiudere con la scuola, trascorre così le sue giornate con la mamma ed il fratellino, esce a fare compere ed ogni martedì e venerdì porta il ragazzino, al quale è legatissima, a giocare nella bambinopoli di Largo Innocenzo Cluchino. Due settimane fa però succede qualcosa. La ragazza ha un litigio con la madre, uno di quei classici litigi tra madre e figlia adolescente. Viene trotto il cellulare a Sceima che per tutta risposta scappa da casa senza dire niente. Viene ritrovata poche ore dopo vicino alla chiesa della Madonna delle Grazie e riportata a casa. Qua, assicura la madre, nessuno la sgrida o la maltratta. Le viene solo fatto capire che non è giusto quello che ha fatto perché ha fatto preoccupare tutti. Invece di capire Sceima si rinchiude in un silenzio inspiegabile, resta sempre a letto e non esce più di casa, fino a venerdì scorso, 29 maggio, quando fa perdere le proprie tracce. Sono le 3.40 della notte tra venerdì e sabato ed è proprio il fratellino a fare la scoperta. Si alza per andare a bere e non trova la sorella. Sveglia i genitori che in piena notte cominciano a cercare la figlia. All'appello mancano un computer portatile e alcuni vestiti. I genitori vanno a Ragusa dove la figlia ha degli amici che confermano di averla vista con il computer e i vestiti. Nessuno però sa dire dove si è andata. La mamma, che oggi disperata si è rivolta a noi, pensa che sia andata a Catania in autobus e che viva là in giro. Dalle 4.20 ho alzato il bambino e mi ha detto mamma, mi sta a piangere, mi ha detto mamma, mia sorella è sparita e non c'è. Solo questo, voi scappate senza motivo. No, no, ho visto che manca cacorobba a casa che non c'è. E poi, scusa, il computer, mi manca anche, non c'è. Solo questo, cosa vuol dire? Che voglio tornare, lo voglio con me. Sì, anche che l'hai preso qualcosa brutto, ho fatto qualcosa brutto. Io sono la mamma, io lo voglio con me, lo voglio. Basta, solo questo, voglio che i miei figli tornano e basta, non voglio niente in più. E adesso parliamo di un altro scomparso del signor Giorgio Floride, a Modicano, di 68 anni, di cui non si hanno notizie anche di lui da venerdì scorso. L'uomo ha con sé i documenti, l'unica persona che lo avrebbe visto domenica mattina è sua cugina. Le ricerche comunque continuano senza sosta, coordinate dalla prefettura di Ragusa. Quasi una settimana è passata da quando Giorgio Floride, a 68 anni, in Modicano, è scomparso dall'abitazione di un familiare dove viveva, lasciando la propria macchina parcheggiata sotto casa. I familiari hanno subito denunciato la scomparsa dell'uomo già venerdì pomeriggio ai carabinieri della compagnia di Modica. L'uomo è alto, circa 1,65 m, occhi castani, al momento dell'allontanamento, indossava pantaloni neri, una camicia a manica corta di colore bianco, scarpe tipo mocassino, un borsello di colore nero a tracolla, segno particolare, una cicatrice all'altezza della carotide sotto la mandibola. I familiari sperano ogni ora che il signor Floride possa fare rientro a casa. L'uomo si è portato i documenti ed il telefono cellulare ormai scarico. Le ricerche sono condotte dai carabinieri in collaborazione con la protezione civile e l'impiego di unità cinofile. La polizia municipale è messa a disposizione dall'amministrazione comunale, il tutto coordinato dalla prefettura di Ragusa. Si sta setacciando tutto il territorio modicano, ma al momento dell'uomo nessuna traccia. L'unica persona che in questi giorni lo avrebbe visto è una cugina dell'uomo che l'ha incontrato domenica mattina al quartiere Treppiedi Nord, lungo corso Sandro Pertini in evidente stato confusionale, ma la signora non lo ha affermato perché non sapeva che si fosse allontanato da casa da ben tre giorni. Dunque al momento questa è l'unica indicazione che hanno i familiari e le forze dell'ordine. La prefettura invita per eventuali segnalazioni o notizie utili a contattare con la massima celerità il comando della compagnia carabinieri di Modica al numero di emergenza 112. Ed una ragazzina di 16 anni, rumena, residente con la famiglia Pontremoli in provincia di Massacarrara, si è invaghita attraverso un social network di un connazionale, un ventenne bracciante agricolo che vive a Vittoria e lo ha raggiunto. La madre della minorenne ha sporto denuncia di scomparsa il 29 maggio scorso e sono state allertate le compagnie dell'arma in Italia. Ieri una pattuglia dei carabinieri della stazione di Vittoria ha incrociato in piazza Nenni una coppietta di giovani fidanzatini. I militari che avevano con sé la foto della ragazza scomparsa l'hanno immediatamente riconosciuta. La 16enne sta bene ed è stata riconsegnata alla madre. E' in coma irreversibile la ragazza di 27 anni di Pozzallo, rimasta vittima di un incidente subito dopo l'uscita di un pub sulla Pozzallo Marina Marza, domenica mattina. La ragazza è nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Modica, costantemente monitorata dai medici guidati dal dottore Rosario Trombatore, l'uomo che era alla guida dell'auto e l'altra volta prendendola in pieno perché ubriaco intanto resta sempre ai domiciliari nella sua abitazione. Sono disperate le condizioni della ragazza di 27 anni travolta da un'auto pirata alle 4 di domenica mattina all'uscita di un pub sulla Pozzallo Marza in territorio di Ispica. La ragazza è sempre ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Modica, guidato dal dottore Rosario Trombatore. Le sue condizioni ieri pomeriggio sarebbero peggiorate, la ragazza è entrata in coma irreversibile. Sarà adesso la commissione ospedaliera interna, formata dal medico legale, dal neurologo e dal rianimatore, a confermare ed ufficializzare la diagnosi del coma irreversibile. Il cuore della ragazza al momento batte grazie all'ausilio delle macchine, ma i danni avuti a livello cerebrale sono irreversibili. C'è sgomento in tutta la provincia per quanto è accaduto alla 27enne, con lei un'altra ragazza coetanea che è stata anche lei travolta, ma ha avuto una prognosi di 30 giorni. Erano uscite dal locale quando una Peugeot 205 con alla guida un 37enne di Ispica, ubriaco, le ha prese in pieno, non si è fermato e ha continuato la sua corsa, fino ad avere un altro incidente autonomo, probabilmente ha perso il controllo del mezzo, sempre sulla Pozzallo Marza, incontrata a Gian Porcaro. È stato proprio in quest'ultimo incidente che i carabinieri, che erano già sulle sue tracce dopo avere travolto le ragazze, lo hanno identificato ed arrestato. Adesso si trova ai domiciliari, nella sua abitazione, a disposizione dell'autorità giudiziaria, davanti alla quale dovrà rispondere dei reati di guida, in stato di ebrezza, omissione di soccorso e lesioni gravissime. Il GIP ha convalidato l'arresto del 37enne muratore Spicesa, arrestato domenica scorsa dai carabinieri per guida in stato di ebrezza, omissione di soccorso e lesioni gravissime. Il magistrato ha confermato anche la restrizione domiciliare. L'operario è comparso davanti al GIP sostenendo di avere travolto, senza rendersene conto, le due 27enne pozzalesi. L'uomo ha raccontato di avere bevuto nel corso della serata un mix di cocktail e birra, mettendosi poi alla guida della sua auto. Non si sarebbe accorto di avere travolto le due ragazze, rendendosi poi protagonista, come detto, di un ulteriore incidente stradale autonome, essendo uscito fuori strada e schiantandosi contro il muro che delimita la carreggiata alle porte di Ispica. Palpeggiava le piccole alunne e proferiva frasi a sfondo sessuale. È stato arrestato un pedofilo di Scicli, 49 anni, Bidello in una scuola, dalla denuncia di una minorenne alle conferme delle compagne di classe. È stato arrestato dai carabinieri di Scicli per atti sessuali. Gli atteggiamenti perversi del collaboratore scolastico sono durati dal dicembre 2014 allo scorso febbraio. Sentiamo. Alunne di 12 e 13 anni si rivolgevano ad un bidello di una scuola media di Scicli per chiedere i gessetti, la carta igienica se mancava in bagno e tutto il materiale scolastico che occorreva. E lui li accontentava, ma palpeggiando segni e sedere. Ogni occasione era giusta per avere un approccio con le minorenni, a cui rivolgeva anche domande a sfondo sessuale. L'atteggiamento perverso del collaboratore scolastico è durato circa un anno. dal dicembre 2014 fino allo scorso febbraio, quando una delle tre ragazzine ha raccontato tutto alla famiglia. In retroscena di questa storia perversa sono stati confermati anche dai compagni di classe. I carabinieri della compagnia di Modica hanno prelevato dall'abitazione il pedofilo che ha lavorato nella scuola fino al giorno dell'arresto. In manette è finito un 49enne ciclitano in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa su richiesta del pubblico ministero ritenuto responsabile del reato di atti sessuali con minorenne. Il GIP Giovanni Giampiccolo ha confermato l'ordinanza di cosiddetta cautelare agli arresti domiciliari dell'uomo per i gravi indizi di colpevolezza e per il rischio di retrazione del reato. Deve stare lontano almeno 20 metri il provvedimento stabilito nei confronti di uno stalker ragusano incensurato di 82 anni accusato di avere avuto atteggiamenti persecutori in danno di una signora di 20 anni più giovane sua vicina di casa. Era stata la stessa vittima a raccontare che l'anziano la chiamava affacciandosi dal balcone le formulava complimenti anche scabrosi quando la incontrava l'82enne spesso aspettava sotto casa la propria vittima a qualunque ora del giorno e della notte le rubava la biancheria estese ed in un'occasione l'ha baciata senza il suo consenso fino a procurarle una lesione guaribile in 20 giorni per un abbraccio troppo forte. L'uomo da ieri non può più avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima. Quattro coniugi sono stati arrestati a Sciclite è stato denunciato il figlio minorenne di una delle due coppie per risse aggravate in concorso e lesioni e violenza pubblico ufficiale. I parenti si sono presi a calcio e pugni fuori dalle loro abitazioni per futili motivi. Sono intervenuti ai carabinieri che hanno preceduto ieri pomeriggio all'arresto. Due coppie di coniugi intorno alle 17 di ieri pomeriggio si sono incontrati fuori dalle loro abitazioni nel centro di Scicli per discutere di fatti familiari ma la conversazione ha preso poco dopo una brutta piega. Due di loro si sono presi a calcio e pugni e si sono aggiunti le rispettive mogli e un ragazzino di 15 anni figlio di una delle due coppie. Dissidi familiari è questa, secondo le indagini dei carabinieri, la causa della rissa che si è conclusa con l'arrivo dei militari. Questi ultimi però, nel tentativo di fare calmare due uomini, hanno ricevuto spintoni e calci. Riportata la calma, i quattro coniugi sono stati condotti in caserma e arrestati con l'accusa di rissa aggravata in concorso, lesioni personali e resistenza a violenza pubblica ufficiale. Quest'ultima accusa è stata adebitata ad un solo soggetto al momento della notifica dell'arresto. I quattro non hanno saputo dare alcuna spiegazione sul movente della violenta lite. Due di loro sono già conosciute le forze dell'ordine per precedenti penali. Il ragazzino è stato denunciato per rissa. I quattro sono stati ristretti agli arresti domiciliari mentre i due carabinieri che si sono fatti medicare hanno avuto lesioni guaribili in una settimana. Tornano in primo piano i problemi economici del consorzio universitario ebleo. Il presidente Cesare Borromenti lancia un drammatico appello per ottenere liquidità dal comune di Raguse e dall'ex provincia regionale già che le casse del consorzio sono ormai completamente vuoti. Oggi risponde il commissario dell'ex provincia regionale di Ragusa Dario Cartabellotta. Sentiamo. Resta drammatica la situazione finanziaria del consorzio universitario ebleo. Domani pomeriggio il presidente Cesare Borromenti chiama a raccolta i parlamentari della provincia di Ragusa gli amministratori locali dipendenti, sindacati, studenti per fare il punto e capire se in qualche modo si potrà andare avanti. Borromenti chiede che il comune e l'ex provincia regionale di Ragusa trasferiscano la prima rata annuale per onorare gli impegni con l'Università di Catania. Daviale e Delfante fanno sapere che con apposita determina già a fine maggio si è provveduto a trasferire al consorzio universitario 178.000 euro onorando così l'impegno sottoscritto a suo tempo per mantenere il corso di laurea in lingue straniere. Un atto dovuto dice il commissario Dario Cartabellotta nonostante le difficoltà finanziarie del nostro ente diverso il discorso per un eventuale rientro della provincia nel consorzio universitario. Dice Cartabellotta le condizioni di predissesto strutturale dell'ente non consentono di assumere ulteriori impegni finanziari quando sono a rischio gli stipendi dei dipendenti della provincia sin dai prossimi mesi e i servizi primari bisogna prendere atto della situazione e basta. Insomma una guerra tra poveri verrebbe da dire. Ultima nota quella del Laboratorio Politico Culturale 2.0 che esprime disappunto e preoccupazione per la mancata convocazione del Consiglio Comunale di Ragusa per accendere i riflettori sulla questione università. ci vuole un Consiglio Comunale aperto. Dicono la riunione fissata dal Presidente del Consorzio Universitario per quanto possa essere animata da buone intenzioni non può escludere quanti hanno intenzione di contribuire con chiarezza e alla luce del sole a risolvere i problemi. Perché conclude il Laboratorio Politico se così fosse verrebbe ad operarsi una negativa divisione nel momento in cui servirebbe l'unione di tutti. È stata celebrata anche a Ragusa ieri la festa della Repubblica e il lavoro è stato il tema centrale del discorso del prefetto annunziato Vardè in un momento di forte crisi occupazionale a livello nazionale presenti le autorità militari e civili schierati sul sagrato di San Giovanni e il coro Marielle Ventre ha accompagnato le celebrazioni con un'esibizione finale. Il lavoro è un messaggio di incoraggiamento e a sperare in una ripresa sono i contenuti della locuzione del prefetto di Ragusa annunziato Vardè nel corso della cerimonia per il 69esimo anniversario della fondazione della Repubblica in piazza San Giovanni rinnovare il senso di un passaggio storico per il paese il referendum del 2 giugno del 1946 con il quale gli italiani chiusero la pagina della monarchia e appena alla Repubblica oltre a votare i deputati che avrebbero preso parte all'assemblea costituente e il motivo della celebrazione che quest'anno è stata ricordata con un ampio riferimento anche sulla disoccupazione giovanile il rappresentante del governo in provincia ha però accertato dei margini di miglioramento con meno richieste di cassa integrazione la solene celebrazione è iniziata alle 10 con l'alza bandiera in piazza Matteotti alle 10.30 il prefetto insieme con il capitano di fregata Francesco Pantano ha raggiunto lo schieramento dalle fare forze di polizia e anche letto il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che da Roma ha trasmesso un appello ai prefetti eliminare ogni fenomeno corruttivo è una sfida ineludibile alla manifestazione hanno partecipato tutte le autorità politiche civile e religiose dobbiamo impegnarci per superare questo momento difficile lei ha detto bene è un momento non molto felice però come ho fatto riferimento nel mio intervento ci sono importanti segnali di ripresa questa crisi economica che ormai da troppo tempo attanaglia la comunità anche ragusana dovrebbe essere superata e questa ricorrenza ci chiama ad un impegno sempre più importante per ridare nuovamente speranza ai giovani che non trovano lavoro alle famiglie che vivono un momento di difficoltà la festa della Repubblica è stata anche un'occasione per ricordare l'impegno delle forze di polizia nell'affrontare quotidianamente l'emergenza sbarchi con tutte le conseguenze del caso dalle audizioni degli immigrati all'eventuale rischio di contrarre malattie fino alla sicurezza nei centri dove spesso si sono verificati scontri per il prefetto l'unziato Vardè occorre coltivare fiducia sono stati consegnati questa mattina dall'amministrazione comunale di Modica i lavori di riqualificazione del centro anziani di Frigintini alla ditta Gosta Costruzioni SRL di Modica i lavori prevedono la rimozione dei pavimenti rifacimento dello stretto dello stato di ipermializzazione sulla terrazza e sulla banchina il rifacimento della pavimentazione esterna nelle banchine interventi in pietra locale nella zoccolatura esterna rifacimento dei muri esterni e dei bagni compreso quello per i disabili e pose un'opera di nuovi infissi e delle porte interne saranno rifatti ricostruiti percorsi pluriali l'opera è stata inserita all'interno del piano triennale delle opere pubbliche 2014-2016 inizieranno venerdì i prossimi lavori di manutenzione straordinaria di numerose vie piazze di Ragusa e Marina di Ragusa questa mattina l'amministrazione comunale ha effettuato un sopralluogo in alcune zone della città che saranno interessate ai lavori assieme ai rappresentanti dell'ufficio tecnico e della ditta che si occuperà della realizzazione delle opere in questione la prima fase degli interventi riguarderà Viale delle Americhe via Archimede via Ettore Fieramosca e l'area di Piazza Vannantò la Torre Cabrera monumento simbolo della città di Pozzallo aprirà le porte ai turisti nell'ultima missione a Palermo dell'assessore ai lavori pubblici Francesco Amatuna è stata data comunicazione di un finanziamento di 100.000 euro per i lavori di somma urgenza che renderanno di nuovo agibile Torre Cabrera il monumento aperto dopo più di mezzo secolo il 25 aprile del 1998 è stato riaperto prima di essere richiuso pochi anni fa ci fermiamo c'è la pubblicità a tra poco non ci sono ulteriori aggiornamenti dalle agenzie dunque termina qui questa edizione di MTG grazie come sempre per averci scelto una buona serata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti